Io trò. Per sei ore. Grande fratello, Jessica sotto shock, la frase non passa di certo inascoltato e ne consegue un lungo e divertente dibattito. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. In giardino, sui divenenti, c'era la nostra Beniamina, Giglio, Avier, Ila e Giulia. Si parlava del più e del meno quando ad un tratto si è iniziato a parlare di cose un po' più spinte. Chissà, forse vista l'ora e i pochi giorni di celibato, le cose sono esplose in qualche istante. È stato Giglio a lanciare il sasso senza nascondere la mano, dicendo, quando faccio l'amore duro almeno sei ore. Chiaramente le concorrenti che hanno ascoltato tutto sono rimaste senza parole. A prendere la parola per prima è chiaramente Jessica che ha detto, ma poi Gedevi attacca a Enne a Flebo. Io parlo di lei, la porti fuori svenuta. Ma che fate? Giglio allora risponde, è tante cose, tante cose ci sono da fare, ti fai un pisolino di venti minuti e poi riparti. Interviene anche Giulia che conferma le parole del coinquilino, riprendere e ripartire e così via. Jessica allora incredula chiede, ma non vi annoiate? E Giglio convinto delle sue idee dice, no, ma che, bello! Mamma mia, fresco come una rosa! E chiaramente sui social adesso non si fa che parlare di questa faccenda. Per l'occasione Giglio è stato soprannominato Lady Oscar, per la somiglianza col cartone animato probabilmente. Solo ieri Jessica aveva fatto un po' al discutere dopo che si era rifiutata di entrare in piscina per non farsi vedere in costume. La bella cantante è stata invitata da Ilaria Clemente e Pamela Petrarolo ad unirsi a loro per un tuffo in piscina. È a questo punto che Jessica ha declinato l'offerta dicendo di non sentirsi a proprio agio. Lei ha rifiutato, dicendo, non mi sento a mio agio, mi conoscono da quando c'ho sette anni. A questo punto Ilaria ha provato a convincerla dicendo, ma che ti importa? Anche io c'ho la cellulite! Sti cavoli! Jessica Morlacchi allora ha ribattuto con la sua solita ironia, io c'ho la N a cartina geografica di cellulite. Pamela allora le ha risposto, senti, fai una cosa, buttati vestita. E lei, me butto de testa! C'è inoltre da dire che già qualcuno aveva notato una sorta di non accettazione da parte della bella cantante romana. Al suo ingresso in casa, infatti, la Morlacchi aveva detto ironicamente ad Alfonso, si vede che mi sono scordata la pancera?